Scaricare video musicali, ma anche gag comiche, sfilate di moda e performance dei loro giovanissimi idoli. La passione dei ragazzi per YouTube è, un po' sorpresa, promossa anche dai pediatri. Per il 70% di quelli intervistati in una recente indagine, infatti, YouTube fa bene agli adolescenti, li informa e li aiuta a crescere, anche se non mancano le ombre e il pericolo di amplificare fake news e bullismo. L'indagine è stata ideata proprio da un pediatra, Italo Farnetani, ordinario presso la Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche di Malta. L'obiettivo della ricerca, spiega Farnetani all'ADN Cronos Salute, era capire i contenuti e le modalità dell'utilizzo di YouTube da parte degli adolescenti e le ricadute su crescita e sviluppo. La ricerca è stata condotta tramite un questionario, dalle risposte è emerso come YouTube sia considerato uno strumento di informazione e di espressione che serve agli adolescenti per identificarsi nel gruppo dei coetanei. Gli intervistati sono risultati d'accordo anche sul fatto che i media digitali agiscono in sinergia e non in contraddizione con i mezzi di comunicazione tradizionali. Pertanto i vari canali di Internet sono un arricchimento per la crescita e la socializzazione, dice Farnetani. Gli intervistati sono un arricchimento per la crescita e la socializzazione, dice Farnetani.